Ciao bimbi bentornati e faccio questo video perché volevo augurarvi una buona Pasqua a voi e le vostre famiglie e a far vedere la challenge di oggi. Allora per la challenge di oggi serve un po' di stagnola per formare il nostro vento di Pasqua e un cucchiaio. Appoggiamo la stagnola sul cucchiaio e facendola saltare la dobbiamo riprendere senza farlo cadere. Possiamo farlo qui in alto, qui in basso. Quante volte volete voi potete fare la gara con i vostri familiari, fratello, sorella, mamma, papà o con chi potete. Di nuovo tanti auguri di buona Pasqua e a presto ciao ciao